Giuseppe Coduto, direttore scientifico del centro studi EDIMAS. Da oggi al 26 di novembre la città di Soverato ospiterà le due classi di master in Open e in MSP che si occuperanno di redigere unitamente al personale dell'amministrazione comunale, delle istituzioni presenti, ma soprattutto con la partecipazione attiva del mondo della scuola, l'esercitazione di cittadinanza attiva e di protezione civile che avrà un semplice compito, quello di far conoscere alla popolazione le aree di attesa e le aree di emergenza della propria città. A causa delle norme vigenti, delle indicazioni internazionali anche della GEDA 2030 si è arrivati a un approccio multirischio. I comuni italiani sono chiamati a redigere di nuovo i loro piani di protezione civile con una visione interdisciplinare. Noi siamo qui per affiancare le attività del Comune di Soverato e per fare in modo che la cittadinanza tutta sia...